E' stata rigettata la richiesta di scarcerazione, rimane dunque in carcere a Teramo Aldo Rodolfo di Nunzio, 72 anni, sotto processo per il presunto strangolamento della moglie Anna Maria dell'Iseo, 60 anni, avvenuto il 15 luglio 2022 nella cantina Garage dell'abitazione di famiglia in località Iconicella, a Lanciano. La Corte d'Assise di Lanciano, riunitasi in Camera di Consiglio, ha sciolto la riserva e rigettato la richiesta di scarcerazione o la concessione dei domiciliari all'imputato, chiesto dai suoi difensori Silvia De Santis e Alberto Paone lo scorso venerdì 10 maggio all'apertura del processo. La difesa aveva depositato gli esiti della perizia fonica sull'audio estrapolato dal sistema esterno di videosorveglianza della villa e per il loro consulente di parte, il fonico forense Marco Perino di Ivrea. Nel frammento audio si sentiva la voce di un uomo che diceva due volte guarda me, perizia diametralmente opposta a quella della procura di Lanciano che si era affidata al perito informatico Cristian Franciosi dell'Aquila, il cui risultato è stato che nell'audio si sentiva a una voce di una donna che invece gridava lasciami, lasciami. La stessa difesa aveva chiesto la scarcerazione di Nunzio anche per mancanza di elementi probatori e la reiterazione di reati violenti. L'imputato era stato arrestato lo scorso 11 gennaio proprio a seguito del deposito di perizia voluta dal procuratore capo Mirvana di Serio. Nuova audienza fissata per il 14 giugno.